Musica Cari amici, nel nostro campus tante sono le attività che a ogni livello di scuola i nostri studenti stanno portando avanti. A una settimana delle lezioni dei capitani, anche i nuovi arrivati della scuola dell'infanzia sono stati assegnati a una casa. Vediamo nel servizio quali attività hanno fatto. Martedì è stato un giorno speciale per i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia perché gli amici pulcini, gli amici scoiattoli ed elefanti nuovi sono entrati a far parte delle case della Sacra Famiglia. Quest'anno l'impegno di ciascun bambino sarà quello di guadagnare punti per la propria casa, focalizzando l'attenzione sulla comunicazione efficace, la partecipazione, il lavoro di squadra, la cittadinanza, la creatività e la gestione delle emozioni. Anche gli alunni della primaria stanno lavorando con impegno. Nelle classi seconde, insieme alla maestra Benedetta, i bambini si divertono con la divisione in sillabe. Eccoli impegnati in una divertente attività nella quale ogni bambino a turno e in base alla parola assegnata doveva inventare un movimento da associare alle sillabe, salti, giovolta e persino la dub. Ed ora passiamo ai ragazzi della secondaria che con il prof, Roberto Grazioli, sfruttano la tecnologia a loro disposizione per lavorare con la musica. In classe gli studenti hanno utilizzato alcune applicazioni presenti sul loro iPad, grazie alle quali si sono divertiti a sperimentare con il mondo dei suoni. I ragazzi hanno voglia di esprimersi con la musica, di suonare e cantare e con la tecnologia sono riusciti a superare questa fase delicata, nella quale per ogni motivo è difficile fare musica. Da Campus è tutto, alla prossima settimana!